Questa sedia è qua, proprio, non ci sta, come è fungito nel cubo. Ecco qua, finalmente ci siamo, la gente ha cominciato ad emergere dal sonno e finalmente c'è vita nello spazio. Finalmente c'è vita intelligente su questo camper, no? Eh sì, sembrate quelli di REC, sai gli zombie, va bene, quindi programma immediato. Andare a pisciare. Sì, sì, di brutto. Eh, ok, va bene, quindi pisciatina, sigaretta, caffè. E poi si va a Roma. Ok, beh, volete dire qualcosa per i nostri telespettatori? Diciamo di no, ok. Diario di bordo, data astrale, secondo giorno di viaggio, terzo appunto. Arrivederci. Grazie. Ciao.